Un accordo di programma importante che abbiamo siglato, che assegna delle risorse importanti a cinque comuni della Sicilia, la Cirreale, Catania, Francofonte, Carini e Troina, delle risorse destinate a alcuni interventi che arrivano alle aree industriali del territorio. Andiamo sempre in questa direzione, abbiamo cercato di accorciare i tempi. Abbiamo ricevuto buone notizie da parte di Irsa, che sarà stata una fallante, che entro l'anno si avvieranno le procedure di gara. Siamo contenti, abbiamo messo a terra 14 milioni di euro per quanto riguarda le aree industriali e soprattutto per dare dei servizi al mondo produttivo siciliano, che è in grande crescita e vogliamo accompagnare questa grande crescita del mondo produttivo siciliano.